Racconto agli ascoltatori un aneddoto molto vicino a questo aneddoto, un fatto, che se mi apre una luce molto interessante. Spostiamoci un attimo dall'origine dell'uomo, all'origine dell'universo. A un certo punto nella Genesi si parla della luce e dopo delle stelle, bene? Al che, diciamo, quelli che vanno lì, insomma, a fare le pulce a queste cose dicono, vedi che contraddizione, cioè manco un bambino avrebbe fatto uno sbaglio simile. Come fa esserci la luce senza le stelle? Quindi il racconto e la creazione, insomma, fa un po' acqua, no? Poi che succede? Con la teoria del Big Bang, che faccio presente, è stata fatta da un gesuita, quindi tutto può essere, furché è una teoria che nega l'esistenza di Dio, no? Perché quello, a quanto pare, non aveva ancora ricusato la fede, quindi ci credeva e faceva. Anzi, sai che la finizia l'accusavano di essere troppo comoda per i credenti perché somigliava alla Genesi? Perché Big Bang è Genesi. E non c'è nulla, poi c'è l'universo. E gli scienziati gli facevano, sì, ti piacerebbe che fosse così. Invece adesso cosa dico? Ma il Big Bang? Le accuse iniziali erano esattamente il contrario. Detto questo, quindi cosa dice la teoria di Big Bang? Che nasce l'universo con un lampo di luce, poi c'è un periodo in cui questa luce scompare, si chiamano Dark Ages, Ere Oscures, dopodiché nascono le stelle. Cioè, alla fine, quello che sembrava un errore dei Genesi, la ricerca l'ha confermato.